Tra le migliaia di persone che nella notte tra il 5 e il 6 aprile si stringeranno attorno alla cittadinanza aquilana nella fiaccolata del ricordo e della rinascita, ci sarà anche il presidente del Consiglio dei Ministri, Giuseppe Conte. Una partecipazione importante, quella del Premier, che vuole così portare la sua vicinanza alla città, alle istituzioni, alle famiglie delle vittime del sisma di dieci anni fa. La fiaccolata partirà alle 22.30 come di consueto da via 25 aprile per ripercorrere le tappe più drammatiche di quella notte nel suo silenzio mesto, che però, spiega il sindaco Pierluigi Biondi, deve anche significare speranza. Conte arriverà alle 22.15 di venerdì 5 per poi andare via prima della celebrazione della messa in memoria delle vittime che verrà celebrata dal cardinale Vescovo dell'Aquila Giuseppe Petrocchi nella Chiesa degli Anime Sante. Con il giusto sentimento di sobrietà, naturalmente, di contrizione e anche però di speranza e di fiducia. Sarà una fiaccolata importante, simbolicamente soprattutto. Servirà a ricordare, naturalmente non sarà necessario per cancellare le tracce che portiamo addosso e i segni del terremoto del 2009, però sarà anche un momento in cui vorremmo salutare per esempio l'arrivo del Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, che spero voglia significare una fase 2 di attenzione da parte dell'attuale governo nei confronti della città, ma soprattutto che il giorno dopo ci proietti verso il secondo decennale, che sarà quello in cui dovremo stabilire tutti insieme dove vogliamo portare questa città. Cosa succederà di questa città quando finiranno i soldi della ricostruzione? Su quali aspetti di questa città vorremmo investire?